Dall'inizio dell'anno sono ben 24 gli Irpini che hanno perso la vita per incidenti stradali, una vera e propria strage che ha segnato di sangue soprattutto l'estate. Basti pensare che da giugno a fine agosto 16 persone sono morte sulle strade. Numeri senza precedenti, una triste conta alla quale all'alba di domenica mattina si è aggiunta un'altra vittima. La lunga scia di sangue con più di due morti al mese ha cominciato a delinearsi fin dall'inizio dell'anno, con la morte di una donna di 62 anni nei pressi dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra. Da allora è stata un'escalation di tragedie e costata la vita anche a tanti giovani, soprattutto nel periodo estivo. A giugno morì un meditenne di Torella dei Lombardi. Il 12 luglio il dramma di Cervinara dove morirono due diciassettenni che erano a bordo di uno scooter. Pochi giorni dopo a Mirabella persero la vita ben quattro ragazzi tra i 19 e i 21 anni. Un dolore immenso che per giorni ha legato drammaticamente quattro comunità Cervinara, Mirabella, Sturno e Frigento. Sempre a luglio perdono la vita un 48enne che viveva a Guardiale Lombardi, un 46enne di Santo Stefano del Sole, un 37enne di Casalbore. Ad agosto il primo giorno del mese muore un 48enne tra Moschiano e Pagovallo Lauro. Il 13 agosto un'altra vittima a Grottolella, un 75enne, si schianta contro un muro. Il 24 agosto perdono la vita marito e moglie di Atripalda, in moto stavano rientrando a casa. 50 e 48 anni perdono la vita a Capaccio. A settembre guardia dei Lombardi piance un 31enne. All'alba di ieri mattina un'analoga tragedia che ha colpito la comunità di Sant'Angelo dei Lombardi per la morte di un 24enne.